Cari amici, eccoci per un terzo momento di ascolto del discorso del piano. Con questa ultima domenica di febbraio si chiude la lettura di questa splendida pagina del Vangelo secondo Luca e cominceremo da mercoledì prossimo la Quaresima con altri ritmi. Quest'ultima parte del discorso del piano è introdotta dalla liturgia con alcuni consigli presi dal libro del Siracide, che è un libro molto recente che ci è arrivato in greco ma era steso in in ebraico originariamente. Abbiamo la traduzione che il nipote di Sirac, chiamato appunto in greco Siracide, ha fatto di questo testo pieno di sapienza umanistica. Partiamo da una frase. Quando si agita un vaglio restano i rifiuti, così quando un uomo riflette gli appaiono i suoi difetti. È una frase positiva, forse non potrebbe essere capita male all'inizio. Sta parlando del discernimento, sta parlando dell'esame di coscienza. Dice che quando si agita un vaglio i rifiuti si appoggiano verso il fondo e possono essere abbandonati. Così quando l'uomo pensa a se stesso appaiono i suoi difetti e forse li può correggere. Questa è proprio la grande importanza che ha avuto nel corso della storia l'esame di coscienza. Lo hanno inventato gli stoici ancora prima dei cristiani, ma i cristiani come San Paolo l'hanno suggerito, inculcato, soprattutto nella tradizione gesuitica ha avuto un influsso molto grande. E cos'è un esame di coscienza? È mettersi fermi e pensare a se stessi. Noi siamo, soprattutto alcuni temperamenti, siamo molto irruenti, ci sembra di fare bene le cose che vanno fatte in fretta. Certamente si deve fare così, io vedo bene che si deve andare in questa direzione. Ma a volte a un pensiero più calmo appaiono altre cose. Allora, mentre ascoltiamo il discorso della montagna, facciamo bene a prestare ascolto anche a questo consiglio molto pratico del Siracide. Agita il tuo cuore tra te e te, guardando bene cosa c'è dentro. Dice un'altra frase molto interessante, il Siracide. Non lodare un uomo prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini. E cioè devi ascoltare bene la persona. La conversazione della persona tradisce chi la persona veramente è. E questo abbiamo fatto tutti l'esperienza di dover cambiare idea. Una persona molto elegante, molto bella, molto piacevole nel porgersi, l'ascolti bene e alle volte pensi però come vuota questa persona. Belle forme ma poca sostanza. Invece altre volte una persona meno graziosa, meno aggraziata, che tu hai guardato come un personaggio molto convenzionale, poi ti metti ad ascoltarla e ti accorgi che ti porta su strade molto interessanti, conoscenze che non avevi. Ti accorgi che quella persona forse non è tanto curata all'esterno ma è molto coltivata. E cari amici questo è proprio un aspetto che noi dobbiamo tenere presente per la nostra vita. L'uomo è natura, ma l'uomo è anche cultura e persona coltivata. Queste due parole sono molto importanti per l'uomo. Cultura e natura. Natura e cultura. Intendendo per cultura non in un senso libresco di sapere molte cose, conoscere molta musica, conoscere molta letteratura, sapere distinguere i quadri, ma dice il Siracide, in questo mi sento proprio di seguirlo, di proporlo e di cercare io stesso di accostare, di seguirlo. Il frutto dimostra come è coltivato l'albero. E allora quando tu hai una persona, non hai solo l'immagine esterna, quando comincia a chiacchierare, quando si rapporta a te e lo fa in modo superficiale o profondo o molto sensibile, vedi che la sua parola ti aiuta, ti illumina, allora ti accorgi che quest'uomo ha lavorato su se stesso, ha fatto molti discernimenti, ha riflettuto molto. È molto bella questa frase, il frutto dimostra come è coltivato l'albero. Se il frutto è molto bello, è molto ricco, vuol dire che l'albero è stato coltivato bene, è stato irrigato bene, è stato liberato dalle arbacce da quello che poteva condizionarne lo sviluppo. Passiamo da questi consigli del Siracide alle messe in guardia che abbiamo nelle parabola che Gesù mette in questo discorso del piano. Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutte e due in una buca? Ecco, è un principio di realtà, non di buona volontà. Si può immaginare che un cieco voglia o vorrebbe guidare un altro cieco, ma noi sappiamo che questa cosa è destinata ad avere un cattivo destino. L'uomo cieco che non ci vede e vuole camminare, anzi pretende di guidare gli altri, in realtà fa dei disastri. Perché lui lo voglia o no? Ci sono delle buche nel terreno. La realtà è fatta in un certo modo, non basta la nostra buona volontà, noi vogliamo fare una certa cosa e si tratta di vedere se riusciamo. Il cieco non si può, non può affrontare gli imprevisti della strada. Se posso scherzare, ci vuole almeno un cane da ciechi che eviti ai ciechi la possibilità di evitare i pericoli, di attraversare la strada, di non entrare nelle buche, di non bagnarsi. Bisogna avere questa umiltà, di capire che la nostra buona volontà da sola non basta. Se siamo ciechi non possiamo fare da guide né a noi stessi né agli altri. Ma Gesù ha preso anche un altro esempio. Non ha pensato solo all'uomo cieco che vuole guidare l'altro. Ha pensato anche all'uomo con una trave nell'occhio che ha un grande impedimento. Non è un cieco ma ha una trave e Gesù prende in giro questo personaggio dicendo ma se tu vuoi togliere la pagliuzza nell'occhio del tuo compagno togli prima la trave dal tuo occhio perché se hai una trave nell'occhio non puoi mica avvicinarti, non puoi certo togliere la trave, scusate la pagliuzza dall'occhio del fratello. Se prima Gesù parlava di buche, il cieco si mette in pericolo perché ci sono le buche, mette in pericolo gli altri se li vuole guidare. Nel caso dell'uomo che ha la trave nel suo occhio è un pericolo che sta dentro la persona. Chi ha dei blocchi non può pensare di guidare gli altri, non può avvicinarsi davvero a colui che può aiutare. Allora proprio qui Gesù dice una delle sue parole più dure. Dice ipocrita togli prima la trave del tuo occhio. Viene tirata fuori la parola ipocrisia. C'è un'ipocrisia sottile ma che fa tanti danni. L'illusione della propria buona volontà. Ritenersi bravi perché sia buona volontà e invece la semplice buona volontà non è sufficiente per dominare le situazioni in cui si vuole operare. Le ipocrisie involontarie non sono meno dannose. Riascoltiamole queste parole di Gesù. Semplici ma veramente incisivi. Incisive. Come puoi dire al tuo fratello? Permetti che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio e tu non vedi la trave che è nel tuo. Ipocrita. Bisogna che noi accettiamo la realtà così com'è. Non possiamo illuderci che le nostre ambizioni di bene siano qualcosa. Le ambizioni di bene vanno curate con il rendere noi stessi più buoni. L'unica preoccupazione seria, carissimi amici, mi sembra che sia questa. Non tanto correggere gli altri ma essere più buoni. È una cosa che noi viviamo nelle conversazioni più quotidiane. Il mondo dovrebbe essere bellissimo se fossero vere fino in fondo le critiche che sentiamo in Tassida, al barbiere, nell'autobus. Dovunque andiamo la gente parla benissimo. Smaschera i difetti degli altri, dei politici, degli uomini di cultura. Ma, cari amici, ma se queste parole fossero vere, poiché le fanno tutti, vivremmo in un mondo bellissimo. Voi vedete invece che il dramma è proprio quello che Gesù ha descritto. La gente vuole togliere le pagliuzze dagli occhi degli altri, ma non toglie certo certi travoni che ci sono nel cuore e nei loro occhi. Il passaggio è semplice. La preoccupazione non deve essere correggere gli altri, ma deve essere quella di diventare buoni noi. Non c'è un albero buono, diceva Gesù, che faccia frutti cattivi. Se uno ha nella sua vita delle disonestà, è inutile che parli del sistema di tassazione che non è del tutto giusto. Magari posso essere d'accordo anch'io con questa affermazione. Ma vedete che non ci si salva la faccia facendo delle critiche. Si tratta di vedere che cosa noi facciamo. Dai frutti si riconosce la pianta. Un albero cattivo non fa frutti buoni. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva da un rovo. Simpatico Gesù. Ha preso i due più grossi frutti che ci sono nel Mediterraneo. Ha saltato solo la vite, ma ha detto non si raccolgono i fichi dalle spine, non si vendemmia da un rovo. E ha detto un'altra frase, ha immesso Gesù. Dalla bocca parla dalla pienezza del cuore. È quello che dicevamo anche poco fa, anche in altre occasioni. Ascoltando una persona con molta attenzione, ascoltando bene quello che vuole dirci, ma anche quello che effettivamente dice, noi ci accorgiamo la qualità che questa persona ha. vi siete accorti anche voi, io l'ho vissuto nella mia esperienza, delle volte la nostra bocca dice cose che noi non ci aspetteremmo di pensare e di dire. Ci accorgiamo di avere detto di più e delle volte ci dispiace perché ci siamo accorti di non avere fatto una grande figura. Ma Gesù aveva ragione, la lingua parla dalla pienezza del cuore. San Giacomo nella sua lettera bellissima dice non si può prendere acqua dolce da una sorgente amara. Se una sorgente amara l'acqua che viene fuori è acqua salata. Quale augurio ci facciamo nel concludere questa nostra riflessione sul Vangelo? Io direi partiamo dall'alto, abbiamo ascoltato la parola di Paolo, siamo chiamati, siamo destinati a rivestirci di immortalità. Usiamo dunque la parola bene, non usiamo la parola terra terra, parole fangose. Cerchiamo di usare parole leggere, se non fosse un'immagine convenzionale trita direi, parole alate, parole che vanno verso l'alto. Non cerchiamo di essere astuti, cerchiamo di essere veri, anche se la spiritualità ha conosciuto un'espressione, sante astuzie. È un'espressione non facilissima ma sulla quale vale la pena sostare. Sono parole che uno dice per fare del bene, non bugie, ma parole che sono dette in modo da invogliare al bene. Dice Paolo, questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità un giorno e questo corpo mortale di immortalità. Questa parola io la tengo come una grande consolazione. Se noi ci impegniamo, senz'altro vinceremo, perché il futuro è il dono che ci viene da Dio. La frase che Paolo dice, la ripetiamo in conclusione piena, la vostra fatica non è vana nel Signore. Lo ripeto per tutti noi, la nostra fatica non è vana nel Signore. Noi siamo destinati a vivere rivestiti dell'immortalità di Cristo. Il bene che noi facciamo il Signore lo sostiene e lo conserva per sempre. Cari amici, buona continuazione, grazie anche dell'ascolto di oggi. Grazie a tutti.